Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Qualcuno li chiama aiuti vigili, ma la definizione corretta è ausiliari della sosta, ovvero la nuova figura introdotta dal nuovo codice della strada che molti sindaci vorrebbero estendere a dismisura fino a parificarli agli agenti della Polizia Municipale. La Corte di Cassazione ha messo dei paletti a questa nuova figura, stabilendo che le multe degli ausiliari del traffico valgono solo sulle aree di sosta a pagamento, quindi le strisce blu per intenderci. In altre parole, chi parcheggia sui marciapiedi o in altre zone del territorio comunale non potrà ricevere multe dagli ausiliari della sosta, quindi nel caso le dovesse capitare non esiti a contestarla. È d'accordo con la Corte di Cassazione o crede che sarebbe meglio estendere il potere di multare ovunque anche questi aiuti vigili? No, io sono d'accordo con la Corte di Cassazione perché già il fatto che utilizzino dei ausiliari, secondo me, è sbagliato. Come mai? Nel senso che ci sono i vigili che sono autorità preposte a fare i... e quindi, ok, se uno fa della sbaglia così oppure fa un... è giusto che sia multato e così, però non mi va che vengano utilizzate persone che comunque non sono... cioè, secondo me è un sistema sbagliato, ecco, di utilizzare questi ausiliari. Quindi è sbagliato anche estendere i poteri a loro? Estendersi sicuramente, estendere i poteri lo trovo sbagliatissimo. No, io sono d'accordo con quello che ha detto la Cassazione perché secondo me si sta un po' esagerando, sono lì che aspettano che parcheggi, il tempo di tornare indietro c'è già sulla multa, quindi mi sembra un po' che siano lì a posto a fare cassa e nient'altro. Quindi il motivo è fare cassa? Secondo me sì, perché i soldi delle multe dovrebbero servire per sistemare le strade. Vede delle strade sistemate, lei? Parliamo di Voghera? Voghera, voghera dappertutto, autovex dappertutto, multe dappertutto, e però le strade fanno schifo. Quindi d'accordo con la Corte di Cassazione? Sono d'accordo, certo. Ma sarebbe meglio aiutare i vigili, prima cosa, ma gli ausiliari non valgono niente. Come mai? Perché quelli sono pagati con le multe che fanno, è tutto interesse e basta. Quindi lei dice che gli ausiliari del traffico hanno interesse a fare multe? Perché loro sullo stipendio viene fuori di lì, invece gli altri hanno stipendio comunale. Quindi d'accordo con la Corte di Cassazione? Sì, sì, sì. D'accordo. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.